questi terroristi abbiano anche ingenti quantità economiche per poterne comprare certo, questo ce li hanno col petrolio quindi quando uno immagina di mettere in campo un'azione seria di lotta e di contrasto al terrorismo in questo caso al Daesh, all'Isis, io tendo a chiamarlo Isis ma sarebbe meglio chiamarlo Daesh perché non gli riconosciamo l'esistenza di uno Stato in questo senso noi dovremmo immaginare che l'intervento che si deve proporre è anche un intervento che va a minare quelle che sono le grandi ricchezze che questi stanno accumulando parliamo di soldi, io sono d'accordo con la Salta Martini, abbiamo fatto noi una scheda